Qual è la nostra capacità di essere consapevoli? Le tecnologie con cui abbiamo a che fare e con cui sempre di più in futuro avremo a che fare saranno sempre più potenti rispetto a quello che per esempio l'iPad ha portato come cambiamento. Questa consapevolezza è rilevante non soltanto per prendere un iPhone e avere la percezione di che cosa è effettivamente e che cosa potrebbe diventare un tricoder ad esempio, ma perché i prossimi oggetti non saranno semplicemente dei tablet. Parleremo di robot, parleremo di impianti neuronali e dovremo ragionare con un nuovo concetto di normalità. Ecco, essere consapevoli, allenare la nostra consapevolezza al cambiamento credo che sia la cosa più importante da fare. E questo ovviamente è impossibile da fare senza apprendimento continuo, train on the job e tutte le altre parole che utilizziamo. Solo che consapevolezza con questo aspetto zen, personalmente, mi piace di più. Se mi chiedete quali competenze occorre allenare per gestire la complessità e affrontare le sfide di futuro, una risposta ce l'ho da una risposta personale. Tutta la mia formazione è stata all'insegna della versatilità e dell'eclettismo. Ho sviluppato un Politecnico, ho fatto mille cose, anche adesso mi occupo di mille dimensioni del progetto. Ho sempre odiato la parola specialismo. Specialismo per me significa semplicemente riduzione e amputazione. Credo che il futuro sarà fatto di persone versatili che ti sanno riprogettare. Per fare questo, lo specialismo è semplicemente un ostacolo. Io credo che però alla fine il punto principale rimanca sempre la guerra dei talenti. Il problema di ritenere quelli che si hanno e il problema di andare a identificare e sedurre quelli che invece si necessita per il proseguire della propria storia imprenditoriale o appunto organizzativa. Rispetto al fatto di ritenere talenti, c'è un articolo di Mike Myatt, credo che si pronunci. È stato pubblicato su Forbes. Sono le dieci più grandi, le dieci più importanti ragioni per cui i tuoi talenti se ne andranno. Lo trovate abbastanza facilmente se citate il titolo in inglese. For a certain reason, your top talent will leave you. Questo su Forbes. Le dieci ragioni sono assolutamente diverse da quelle che qualunque imprenditore menzionerebbe. Per esempio, le dieci ragioni sono legate a trascurare i propri talenti. Non solo non gratificarli, ma proprio non dargli l'opportunità di brillare. Quindi, come azienda, non assumere le sfide che il fatto stesso di ricercare e ritenere i clienti ti portano ad affrontare. Cercare i talenti è un modo anche per l'azienda per migliorare se stessa e rendersi cosciente del fatto di potere e dovere affrontare nuove sfide. E poi c'è la questione di trovarne di nuovi. Mi è capitato molto spesso di parlare di talenti ibridi. E la mia proposta è abbastanza semplice. C'ho proprio i classici tre punti da questo punto di vista. Il più importante, il punto uno, è assumete, secondo una diversità culturale, nazionale, raziale, religiosa, sociale, costruite un ambiente che consenta ai talenti di incontrarsi e dialogare. Due, gestite le vostre attività anche quelle che sembrano di routine, come se fossero dei progetti. E poi, terzo e non ultimo, utilizzare la forza della parola ibilida in contrapposizione di fatti ad altre terminologie. Ad esempio, la terminologia che ci porta alla necessità di una leadership tecnica. Quando il gioco si fa duro, entrano in campo i tecnici. Sarebbe bello che entrassero in campo gli ibridi. Credo che la qualità più importante che debbano avere le organizzazioni in questo momento sia la capacità di essere riconfigurabili e di costruire forme di intelligenza adattabili. Adattabili dal punto di vista delle capacità degli individui, ma anche della connettività e dell'adattabilità collettiva. Credo che l'organizzazione debba essere qualche volta agile, qualche volta robusta. Deba certamente investire moltissimo del proprio tempo a pensare al proprio scopo. Come diceva Joe Strammer, the future is unwritten. Il futuro è inconoscibile. Però il futuro è anche il frutto di una lunga successione di pensieri, di gesti e di progetti che noi facciamo quotidianamente. È individuale e collettivo, quindi non solo nella nostra mente, ma anche nella mente collettiva, nel desiderio collettivo. È frutto di razionalità e strategia, ma è anche frutto di opportunità e adattamento. Credo che la vera essenza appunto sia questa. Mescolare la capacità di prevedere, la capacità di configurare, ma anche la capacità di adattarsi. Io ho speso gli ultimi due anni sostanzialmente lavorando nello spazio healthcare, nel mercato healthcare. E qualche tempo fa ho incontrato questo video di Hans Rosling, registrato per BBC Forum. Il video si chiama The Joy of Stars, che sostanzialmente in quattro minuti, tenendo traccia di duecento nazioni, ci racconta come negli ultimi duecento anni si sono evolute dal punto di vista dell'aspettativa di vita e ricchezza. Quindi dando una fotografia sostanzialmente della salute del mondo e di come si è evoluta negli ultimi duecento anni. Ma la cosa che conta di più è che il messaggio è un'incredibile good news. L'umanità non è mai stata meglio di adesso. Quindi in realtà, oggettivamente parlando, stiamo parlando di un mondo che è nella direzione positiva e sta tenendo fede a quelle che sono le aspettative sul fatto che il futuro, attraverso la tecnologia e molti altri aspetti, faccia di noi un'umanità migliore in un mondo migliore. Digitalizzare e connettere alla rete gli strumenti è di fatto una delle strade principali per accelerare la costruzione di quel futuro, di quel mondo migliore, di quella promessa di futuro che noi tutti desideriamo. Quindi io resto ottimista.